Ciao, sono Giulia Lombardo, laureata in Ingegneria Energetica presso l'Università degli Studi di Padova. Ciò che mi ha spinto a partecipare a questo premio di laurea è innanzitutto il desiderio e la volontà di sottoporre il mio lavoro di tesi a qualcun altro e di vederlo valutato da più persone possibili e di dimostrarne l'utilità e la fattività nell'ambito del PNRR. Cosa mi aspetto dal mio futuro? Spero che il mio interesse nella ricerca in campo energetico frutti e che questo percorso continui e mi permetta di portare avanti la mia ricerca nel modo che vorrei.